C'è un certo Raffaello Bia, questo cognome non mi è nuovo, sentiamo, vediamo, intervistiamolo. Lontana appartenenza con il maestro Bia? Sì. Cioè? Il figlio. Figlio del maestro Bia, non poteva essere diverso. Figlio del maestro Bia, Raffaello Bia, alla tastiera. Intanto vediamo gli altri. Sempre alla tastiera, Vincenzo Carmosino. Dov'è? Si è preparato? Pronto, eccolo lì. Vincenzo Carmosino. Invece alla chitarra è andato Alessandro Giglione. Dov'è? Eccolo lì, Alessandro Giglione. Al basso, Angelo Rana, è pronto? Ecco lì. Tutti i ragazzi, eh, simpatici, brillanti. Sono saliti con il portamento da divo, da divi. Alla batteria, Vito Parisi, è pronto? Tu quanti anni hai? Dieci anni. E sei il più piccolo della formazione. Bene, Vito Parisi e poi i vocalist sono due? No, solo uno. Tu sei? De Simone e Gianchietro. Abbiamo Gianchietro. De Simone, avete già partecipato a qualche manifestazione? No. Non ancora, quindi? Al teatro team. Ah sì, hanno partecipato quindi al teatro team, però questa è la prima serata, diciamo è la serata ufficiale. L'inaugurazione, il battesimo di questo gruppo. È vero? Siete pronti? Possiamo partire? Eseguirete un brano di zucchero, mi pare, è vero? Per colpa di chi? Non c'è più una namorosa, ne sono un cielo giù una curva. E tanto zio Lufus, hai coi pensieri in testa, portando in giro la vita a fare la vita. E tanto zio Lufus, hai coi pensieri in testa, portando in giro la vita a fare la vita. E tanto zio Lufus, hai coi pensieri in testa, portando in giro la vita a fare la vita a fare la vita a fare la vita a fare la vita. E tanto zio Lufus, hai coi pensieri in testa, portando in giro la vita a fare la vita a fare la vita a fare la vita a fare la vita. E tanto zio Lufus, hai coi pensieri in testa, portando in giro la vita a fare la vita a fare la vita. E tanto zio Lufus, hai coi pensieri in testa, portando in giro la vita a fare la vita a fare la vita. E tanto zio Lufus, hai coi pensieri in testa, portando in giro la vita a fare la vita a fare la vita a fare la vita. E tanto zio Lufus, hai coi pensieri in testa, portando in giro la vita a fare 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 la vita a